Tutti abbiamo sentito parlare della congiura dei Fieschi. Che cosa fu questa congiura e quando avvenne? Quali furono i protagonisti e perché si arrivò alle armi? Bisogna fare un passo indietro nel tempo e pensare a Genova nel 1500, in particolare Genova nel periodo tra il 1528 e il 1560, un periodo che Genova visse sotto la luce di un uomo molto particolare, il principe Andrea Doria, principe che non si dichiarò mai nella città un primus inter pares, ma che mantenne di fatto il dominio pur non essendone direttamente il signore, se non per i due anni in cui fu doge. Ecco, Andrea Doria aveva molti nemici, molti se li era creati anche a seguito del cambio di scelta di influenza. Prima Genova era sotto l'influenza dei francesi e Andrea Doria, che mal tollerava l'influenza dei francesi, che peraltro non volevano riconoscere Savona come dominio di Genova, si era rivolto alla Spagna, a Carlo V di Spagna. Questa alleanza appunto non piaceva ad alcuni nobili. All'inizio l'accettarono, però vi furono diverse congiure nel corso del tempo, di cui la più famosa è la congiura dei Fieschi, che vede come protagonisti due giovani. Due giovani che sono appunto Gianluigi Fieschi e Giannettino Doria. Cosa lega e che cosa allontana questi due personaggi? Beh, sicuramente sono legati dall'età, ma sono allontanati dalle storie di vita. Per cui se la congiura dei Fieschi si instaura su e può essere attuata su una base politica, cioè l'aiuto effettivo della Francia e di altri nobili che non vedevano in maniera positiva Andrea Doria, in maniera ideologica come scontro tra vecchia e nuova nobiltà, vi era anche l'antipatia personale e i rancori personali. Questo perché Gianluigi Fieschi si era trovato a vivere non a Genova, quindi al centro del potere, ma a Montoggio. E come mai era andato a vivere a Montoggio? Perché dopo la morte di Sinibaldo, suo padre, la famiglia aveva perso alcune fortune, alcune proprietà che Sinibaldo aveva assegnato in cambio di una rendita per la sua famiglia proprio ad Andrea Doria. La moglie di Sinibaldo non era in grado di condurre la vita precedente e aveva preferito ritirarsi sull'Appennino appunto a Montoggio, ma Gianluigi Fieschi non aveva alcuna intenzione di vivere lì, voleva essere partecipe del potere della Repubblica di Genova e vedeva in Andrea Doria un tiranno. La figura di Gianluigi Fieschi viene studiata, viene interpretata diversamente nelle varie epoche storiche, ma addirittura Bernambo Brea vede in lui una sorta di eroe risorgimentale, una sorta di brutto che si oppone al tiranno. Vediamo che cosa portò a livello personale a questa congiura e come questa si attuò. Abbiamo detto che Gianluigi Fieschi avrebbe voluto una vita differente e al contrario vedeva e sentiva i successi del suo rivale Gianettino Doria che però lui Gianluigi considerava un parvenuto vanaglorioso. Questo era un primo punto. Il secondo punto e quindi il secondo punto di rancore personale capita nel momento in cui Gianluigi si sposa e si sposa con Eleonora Cibo. Eleonora Cibo è una bellissima donna e Gianluigi decide di andare a vivere a Genova con questa donna e si trova a vivere a fianco a Giannettino Doria il quale si accorge della bellezza di Eleonora e nutre un qualche interesse verso la moglie di Gianluigi. Lasciamo stare il gossip o ciò che dicono le malelingue però sicuramente come dice Hercule Poirot, cherche la femme nel caso di Gianluigi ha giocato un forte ruolo. e quindi cosa fa Gianluigi dopo che ha trovato un gruppo di uomini pronti a sostenerlo li fa entrare in città in gran segreto e riesce a nascondere le armi. Il 2 gennaio del 1547 si mostra in città tutto allegro giusto per nascondere la congiura che sta per avvenire e la notte dice a Eleonora quello che ha deciso di fare. Da lì dovete immaginarvi Genova invasa proprio dallo scalpitare dei cavalli, dai passi veloci degli uomini armati, pensate proprio alle armature del periodo rinascimentale e al grido da parte dei congiurati, il grido di invocazione al gatto e alla libertà, cioè allo stemma dei fieschi come stemma di libertà per grido che appunto i congiurati facevano per richiamare il popolo minuto e vederne un alleato. Da San Donato alla Darsena la città è in completa confusione e Andrea Doria è colto alla sprovvista e Gianluigi Fieschi raggiunge la Darsena insieme a un gruppo di uomini i quali liberano i musulmani che erano tenuti prigionieri nelle dallee di Andrea Doria e in questo momento di confusione in cui la congiura sembra volgere per il meglio per quanto riguarda i congiurati, Gianluigi si trova in piedi sul ponte tra due navi di Andrea Doria, sul ponte che c'è tra due galee, la capitana e la padrona. Gianluigi ha un'armatura pesante, c'è stata molto confusione e questo ponte cede e Gianluigi annega. Quindi lui che desiderava una morte gloriosa si trova di fronte a una morte ingloriosa ma non è l'unico ad essere punito dalla congiura perché l'altro grande punito è Giannettino Doria che nel momento in cui sente tutta la confusione in città corre insieme a due paggi per difendere Genova ma viene subito raggiunto da un'archibugiata nel petto e quindi muore anche lui. Per quanto il senato sia dell'idea di concedere l'indulto ai congiurati che, perso il leader, hanno deciso di ritirarsi, Andrea Doria non è di quest'idea e nel momento in cui trova il corpo ormai deformato di Gianluigi Fieschi decide di esporlo per due mesi in maniera che la città sia memore di quanto può accadere a un congiurato. Non solo, dopo due mesi si rifiuta di consegnare il corpo alla famiglia e lo getta in mare così come avrebbe fatto, appunto come aveva fatto in realtà in tempi mitici e antichi, il prepotente Creonte. E quindi questo getta un'ombra su Andrea Doria nel senso che sì, era un uomo, un prode guerriero, ma era anche un uomo spietato. Era sicuramente un abile diplomatico, però aveva anche lui un suo lato oscuro che insomma ci inquieta un po', però erano tempi diversi. E cosa accade ai Fieschi? I Fieschi subiscono proprio veramente una fine tremenda perché il fratello di Gianluigi cerca di difendere estrenuamente il castello di Montoggio, ma viene catturato e giustiziato e tutte le loro proprietà vengono divise tra la Repubblica e i nobili che sono dalla parte di Andrea Doria. Solo Ettore Fieschi ritiene Savignone perché non partecipò alla congiura.